Non avevamo iniziato male nei primi minuti, poi alla prima difficoltà abbiamo perso convinzione e non è stato facile disputare quel primo tempo perché siamo andati in difficoltà, l'avversario ci ha aggredito, avremmo voluto giocare ma non avevamo la fiducia nei nostri mezzi per poterlo fare e quindi siamo andati in sofferenza, abbiamo concesso qualche occasione, qualche ripartenza l'abbiamo fatta però abbiamo perso le distanze e quindi abbiamo fatto fatica e poi nel momento in cui stava per finire questo primo tempo abbiamo preso la mazzata quasi finale e quindi abbiamo organizzato un po' l'idea all'intervallo e credo che abbiamo fatto un secondo tempo diverso in cui abbiamo creato le occasioni da gol, anche delle potenziali importantissime, non siamo riusciti a ottenere i tre punti che volevamo e guardiamo avanti alla prossima partita che sarà altrettanto difficile e importante. Voi potete dire quello che volete perché noi lavoriamo quotidianamente per fare il massimo e continueremo a farlo come abbiamo detto dal primo giorno. Non ne veniva da tre partite consecutive e ovviamente non posso pensare sia con lui che con altri giocatori di poterle impiegare in tantissime partite consecutive e quindi ho fatto una scelta e è iniziato Libor, poi è entrato Antonio e sono stati partecipi a una partita difficile nel primo tempo migliore nel secondo in cui usciamo con un punto e guardiamo avanti con la solita fiducia purtroppo ne avremmo voluti tre e non ci siamo riusciti. Sono stati migliori di noi nel fare diverse cose, noi non siamo stati bravi a proporre quello che di solito sappiamo proporre e quindi siamo andati in sofferenza e purtroppo non abbiamo fatto un bel primo tempo però sono contento della reazione della ripresa perché abbiamo ripreso una partita difficile e abbiamo anche provato a vincerla concedendo il fianco, rischiando di perderla però penso che tutto si può rimproverare a questa squadra tranne che manchi di impegno e io sono contentissimo dell'impegno che mettono i giocatori dal primo giorno che sono arrivato fino ad oggi vorremmo fare meglio, sicuramente diventiamo più bravi quando c'è un clima importante per noi perché non è mai facile riuscire a esprimere le proprie potenzialità quando c'è un pizzico di scetticismo però noi non chiediamo niente, sappiamo che dobbiamo fare meglio perché nel primo tempo abbiamo concesso il fianco alle avversari quindi abbiamo reagito nella ripresa e proveremo a fare meglio nella prossima partita